Ciao bambini! Allora oggi giocheremo un gioco che è ovvero il mimo senza fili, che è la variante del telefono senza fili. Giochiamo questo gioco perché bisogna stare un metro di distanza. Il gioco funziona praticamente come il vecchio telefono senza fili, solo che per dirsi la parola che devi indovinare l'ultima persona, bisogna mimare, bisogna fare gesti, stando appunto un metro di distanza, senza che la persona dopo lo veda. La parola che ti farò indovinare sarà pallavolo. La parola secondo me è pallavolista. 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 No! Dai pallavolo! Sì pallavolo, pallavolo.